La Biblioteca Delfico di Teramo, tra le più antiche e prestigiose del centro Italia, sarà visitabile virtualmente in tutto il mondo grazie ad una nuova tecnologia che prevede l'utilizzo della nota piattaforma Google Maps. In un click si potrà avere la visione a 360 gradi di tutto il suo patrimonio interno, un'esperienza unica adottata solo da grandi realtà museali come gli Uffizi di Firenze. Semplicissimo, basta andare o su il sito dell'istituzione stessa della biblioteca oppure direttamente su Google Maps e tutte le piattaforme di Google, Google Street View e si può visitare virtualmente la biblioteca e in particolare le sale più belle della biblioteca che sono sia artisticamente, architettonicamente molto rilevanti e poi ovviamente custodiscono dei volumi incredibili. Questo ci dà la possibilità 7 giorni su 7, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno di poter visitare l'istituzione forse più importante e culturale, una delle più importanti del nostro territorio. E sicuramente questo rappresenta una promozione importante del nostro territorio. Assolutamente, questa è una delle forme più importanti, veloci e potenti per promuovere il nostro territorio, per poter permettere ad ogni persona del mondo di vedere quante sono e di quale qualità sono le bellezze che il nostro territorio offre. In questo grande progetto di promozione territoriale hanno giocato un ruolo importante i volontari dell'Adelfico, sei studenti del servizio civile della provincia di Teramo, che hanno collaborato alla digitalizzazione del patrimonio cartaceo e audiovisivo della biblioteca. Tu stai digitalizzando un po' del patrimonio della biblioteca provinciale di Teramo, precisamente che cosa? Allora, diciamo che mi sto occupando del comparto audio, quindi bobbine degli anni 40-60. Il fondo è quello di Fernando Aurini, che è stato un giornalista importante per la RAI. Sto cercando di digitalizzarle in mp3, formati fruibili, per poi farle sentire, diciamo, a tutti. La biblioteca Delfico rappresenta Teramo, un luogo vivo e di studio per tanti giovani, ha sottolineato il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, un punto di riferimento culturale che oggi conta 9.000 iscritti.